Hey tu, prima di guardare questo video premi sul tasto iscriviti e già che ci sei premi anche sulla campanellina per attivare le notifiche in questo modo non perderai nessuno dei video che verranno inoltre al termine del video se questo ti è piaciuto lascia un like e condividilo con i tuoi amici hai fatto tutto? Bene, ora ti auguro una buona visione Hello guys, bentornati qui al mio canale e come sempre sono il vostro Olimpico 900 siamo tornati su Dragon Ball Legend e siamo tornati con un nuovo account in quello che potrebbe diventare in tutto e per tutto il mio secondo account ufficiale tra l'altro vi annuncio che sono riuscito a recuperare il mio primissimo account quindi quello con cui gioco di più, quello con cui ho appunto Goku 5 Stelle Super Saiyan che è una bestia, ma ahimè però è privo di Brody e dei nuovi PG banner che sono usciti in questi giorni pertanto raga, prima di cominciare a cercare questi nuovi PG è giusto fare una piccola analisi di quello che potremmo trovare all'interno di questa batch quindi senza perdere ulteriore tempo direi di andare a vederli uno per uno, quelli più interessanti diciamo direi di partire subito con Freezer Final Form, ragazzi nuova sparking di tipo giallo lui anche possiede la doppia skill, doppio attacco speciale come Goku Super Saiyan quindi già questo mostra delle cose veramente interessanti andiamo a vedere un po' di statistiche, insomma 349.000 ragazzi di vita con uno strike attack di 40.000, blast attack di 31.000, difesa strike 23.000, difesa blast 23.000 praticamente leggermente più alta la difesa blast ma non di così tanto alla fine un critical di 1691, un kill restore speed 1721 e due equipment slot fa parte dell'episodio saga di Freezer giustamente ed è sia potente con l'attacco fisico appunto sia che con l'attacco quello diciamo con il ki vediamo The Hearts, parte già con una strike e un blast a livello 4 ragazzi quindi più alto di quello con cui partiva Goku Super Saiyan un death ball a 2 su 5, telecinesi 2 su 5, il death catastrophe sempre 2 su 5 anche qua direi che non è affatto male, vediamo l'abilità, you're going to die allora, mi esca l'ultima carta arte, ah ok, praticamente l'abilità è come quell'altra ti fa appunto prendere la carta death catastrophe, quindi molto molto buona è comoda, è come quella insomma tradizionale per Goku Super Saiyan la Z ability parte, non so se effettivamente parte o questo già, se ci ho mettendo non me lo ricordo, vabbè comunque una Z ability a livello 3 più 24% sull'elemento giallo, blast strike e blast difensiva, quindi fondamentalmente ragazzi aumenta la difesa sia del blast che dello strike del 23% sull'elemento giallo quindi questo ragazzi in squadra con Pai Kwan è già diventa un bellissimo un bellissimo deck su cui combatteri, ha due abilità uniche più 20% di danni inflitti contro i Saiyan, wow e poi più un 15% di danni inflitti con la tag Freeza Force ok, quindi sì, ragazzi è un ottimo PG c'è poco da fare, c'è poco da fare, bilancia nettamente quello che è il gioco adesso quindi assolutamente da avere per il meta che gira adesso su Dragon Ball Legends poi abbiamo Capitan Giniu, andrò un po' più veloce ragazzi perché sennò qui stiamo fino a dopodomani anche lui ha una doppia skill, ha delle statistiche niente male, tanto comunque le vedrete a schermo quindi se vorrete potete stoppare e leggerle tranquillamente andiamo a dare un'occhiata alle abiliti quindi your body is mine quindi ti farà pescare la carta Body Change quindi esatto, cambierà assolutamente ci sarà possibile di scambiare il corpo con Giniu la z-ability è più 22% sul tag Giniu Force l'abilità unica Team Freezer più 20% sul danno inflitto con il tag Freeza Force quindi anche questo da giocare in team con Freezer diventa un PG veramente niente male ultima sparking aggiunta è Gohan Kid sempre di elemento giallo a lui soltanto con una skill statistiche ragazzi, veramente non male veramente niente male molto potente con gli attacchi Blast è di Son Family queste sono le tag di categoria Saiyan Ibrido e Kid le art sono Masenko lo sblocco del potenziale Blast e Strike classici la main ability è più 50% di danno inflitto per 15 turni 15 secondi in realtà ragazzi sarebbe la z-ability è più 19% 2-tag Mixed Blue Saiyan Max Base e il Touring Battle wow e doppia abilità unica quindi ha uno Strike Attack più 20% su ok quando ci sono 3 membri quindi wow quindi buono da giocare come il primo PG e più c'è l'abilità legata a piccolo quando piccolo viene sconfitto più 35% sullo Strike quindi immaginate un team composto che so ad esempio da piccolo Freezer e Gohan oddio forse in realtà non è che andrebbe poi così tanto bene diciamo che momentaneamente secondo me ragazzi sono PG da avere adesso in modo tale che man mano che escano le batch si riescano a costruire dei deck veramente decenti allora vi dirò a quello che punto io vabbè neanche a dirlo ragazzi faremo un giro di summon anche su Brody comunque io direi di cominciare appunto con quella da 20 sul single summon di Brody visto mai che si scura alla grande allora io ho anche qui il mio porta fortuna che non vi faccio vedere a meno che questo video lo raggiunge che ne so i 50 like in quel caso nel video successivo vi farò vedere il mio porta fortuna quindi 50 like per questo video se volete vedere il porta fortuna allora non so se utilizzarlo lo tengo stretto qua nella mano ragazzi non so se utilizzarlo adesso il potere del porta fortuna direi di skipparlo tranquillamente infatti era tranquillamente un tensing hero che è molto molto passabile allora io farei 4 singole di qua poi farei 4 singole di là una multi di qua e una multi di là vediamo un po' quello che accade ancora vuota questa ancora vuoto quindi ancora una hero ancora una hero purtroppo ragazzi scusate se sto con inquadratura un po' così allora io direi di tenerci il bonus del porta fortuna ragazzi per la consecutive summon allora però se ci vuoi dare una piccola mano eh noi non diciamo di no eh porta fortuna noi non diciamo di no se ci vuoi aiutare su una single summon perché vorrei evitare l'ennesimo reroll sarebbe fantastico allora intanto la terza singola se ne sta andando ci si è andato vicino però probabilmente sarà un extreme quindi niente di che vediamo l'animazione nel caso in cui accadesse qualcosa però insomma non c'è neanche lo spondo distrutto no non accade niente ragazzi si schippa è un extreme quindi ok nappa nappa extreme va bene va bene va bene allora io faccio l'ultima singola e intanto inizio a caricare il porta fortuna intanto si è anche intravista un pochettino io intanto inizio ad invocarti porta fortuna perché ho bisogno del tuo aiuto ho bisogno del tuo aiuto per trovare niente Yamcha alla fine ho trovato ma schippato tutto ragazzi comunque limit break per Yamcha perché c'è quello che ti danno inizio il gioco in più logicamente questo qua ok allora Brody raga non si fa vedere si lascia come dire desiderare ma ecco qui la multi multi ti prego porta fortuna per favore ci sono tante navicelle Goku si è trasformato quindi è probabile che ci sia una sparking quindi se fosse il porta fortuna ragazzi ancora una volta ha fatto il suo dovere allora vi confermo la sparking perché relays è rosso quindi grandissimo porta fortuna se fosse Brody ragazzi sarebbe la svolta della vita qui Goku lo disintegra direttamente senza aiuto di nessuno quindi dovrebbe essere un'ottima sparking vediamo un po' vediamo se questa niente è un Taipei vediamo se questa si trasforma niente tensing oh non mi dica non c'è la sparking perché sarebbe la trollata del secolo ma dai non ci sto credendo oh eccola qua attenzione no Paikwan ancora trovo sempre Paikwan mi sa che è saltato il giro di raga Taipei l'ha portato tipo a 4 stelle probabile no a 3 stelle 3 stelle vabbè oh grazie grazie portafortuna che comunque il suo l'ha fatto la sparking ce l'ha fatta trovare purtroppo ahimè non si tratta di Brody non ce ne frega niente Taipei dai via 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 che il tempo è denaro allora allora 4 singole sulla batch di freezer anzi in realtà possiamo farne 5 perché c'è anche quella in daily da 20 quindi ancora 5 summon che clamorosamente vuota giustamente c'è Godkid però non è quello sparking bastardi bastardi ti trollano ti trollano ti trollano allora andiamo 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 con la singola con la singola portafortuna caricati perché per la multi consecutiva ci serve il tuo aiuto schippiamo ragazzi perché tanto queste qui sono tutte hero difficilmente in singola ragazzi da qualcosa di buono in realtà la percentuale dovrebbe essere la stessa in teoria io rimango sempre convinto che in multi è meglio ovunque in qualsiasi gioco e non soltanto in questo allora Jaco fai il bravo levati dalle balls allora vuotissima ragazzi vuotissima zarbon zarbon io credo che fra questo e l'altro account più i vari reroll che ho fatto ragazzi ne avrò trovati una trentina e non sto esagerando veramente zarbon si trova è come gli zubat nel mondo pokemon in pratica ragazzi qui animazione strana sfere del drago mai vista mai vista è la prima volta che mi capita un'animazione del genere adesso sono un po' curioso probabilmente non c'è niente però era strana effettivamente come animazione quindi qualcosa dovrà accadere ma soltanto goku che elimina freezer oh però una sparking attenzione oh gone kid gone kid in singola ragazzi gone kid in singola elemento giallo che dovrebbe però non c'è la passiva maledizione vabbè oh ragazzi portiamo a casa una sparking quindi sappiamo che le sfere del drago in animazione assicurano una sparking non mi era mai successo wow 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 buono così buono così facciamoci l'ultima singola ragazzi l'ultima singola che visto mai si scura di nuovo porta fortuna spero che tutti sia caricato a dovere per l'ultima consecutive summon vediamo un pochettino allora in realtà ragazzi ci siamo è il momento della verità porta fortuna io invoco il tuo potere per avere almeno freezer almeno almeno freezer almeno almeno freezer allora il rito propiziorio è terminato vediamo un po' se il porta fortuna ci fa trovare 5 pod in multi si trasforma si trasforma quindi attenzione ragazzi questo porta fortuna è clamoroso lo vedete in ogni video veramente finché però ragazzi non è rosso non è rosso quindi probabilmente non c'è lo sparking forse non c'è lo sparking dannazione finisce addirittura in pareggio no non c'è la sparking ragazzi è buota porta fortuna siete che si è un po' scaricato dannazione guardate quanto è bello l'artwork di questo Vegeta peccato che sia extreme dannazione ci avevo creduto perché sei pod con Goku Super Saiyan giustamente un pensiero ce lo fai però credo sia totalmente vuota Pai Quan a meno che no no è vuota purtroppo è vuota purtroppo una multi vuota ci sono un paio di extreme più o meno interessanti però ahimè ahimè peccato peccato vabbè dai però porta fortuna il suo alla fine l'ha fatto dai ci ha fatto trovare comunque due sparking in realtà abbiamo anche una da 20 da provare sulla bacio quella quella classica quella sempre daily e la proviamo non si sa mai la botta di culo anche qui uno la fa non è che vediamo un attimino vuotissima 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 vabbè ci lasciamo con jeez io ragazzi vi chiedo almeno 50 like se potete scoprire di cosa si tratta che cosa è il porta fortuna perché comunque anche in questo video il suo l'ha fatto lasciate vedere che non abbiamo strasculato né trovando brody né trovando freezer però però comunque due sparking ce le siamo portati a casa una addirittura in singolo quindi comunque intanto qualche like se lo merita anche questo porta fortuna iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando ragazzi attivate la campanellina noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio hello guys a e p s ragazzi probabilmente farò ancora un reroll perché insomma noi dobbiamo andare assolutamente alla ricerca di un brody o un freezer o magari entrambi hello